La novità invece del 2015 che è stata una prova ma nel 2016 ormai è diventata una scelta matura, pronta, è il corso di introduzione alla culinaria italiana. Ebbene, dopo un inizio in cui gli studenti faranno un corso di italiano normale, il nostro normale corso di italiano per due settimane, dopo due settimane comincia il corso di introduzione culinaria. Ha avuto un grande successo perché è l'unione di attività teorica, perché un po' si studia, è insieme all'attività pratica, gli studenti cucinano veramente, fanno la pasta, fanno le tagliatelle, fanno il gelato, vedono la tecnica per fare queste cose e in più la degustazione, quello che cucinano mangiano e il tutto ad un prezzo che è molto competitivo. Quindi il successo dei corsi di cucina è stato grande e la Scuola D'Antalighieri nel 2016 organizzerà i corsi di cucina nei mesi di febbraio, aprile, ottobre e novembre. Quindi chi volesse frequentarli, quello è il momento buono per questa novità che spero possa essere sempre più apprezzata in Brasile.